buongiorno e buona domenica la prima domenica dell'anno la liturgia ci ripropone il prologo del vangelo di giovanni il meraviglioso testo del capitolo 1 dal versetto 1 al 18 in cui l'evangelista propone la contemplazione del mistero dell'incarnazione preparato fin dall'eternità e ci invita ad entrare ancora più profondamente nell'intimità della vita di dio il testo già ascoltato nei giorni del natale per noi oggi diventa un'opportunità nuova guardando all'esperienza di un dio che viene a porre timora in mezzo a noi letteralmente pone la sua tenda in mezzo a noi la tenda tanto attesa della sapienza di dio che ha accompagnato passo a passo il popolo nel deserto mentre dalla schiavitù dell'egitto camminava verso la terra promessa la tenda che era a suo tempo luogo di accoglienza per gli ospiti che visitarono abramo e sara lungo la migrazione che portò il patriarca alla terra di canaan la tenda che in fondo è la stessa creazione preparata da dio come l'ambiente in cui l'uomo e la donna possono vivere ed essere accuditi e curati dal signore stesso la tenda ferita dal peccato strappata dall'egoismo è diventata adesso luogo di accoglienza e di mora e di cura perché dio è tornato a porla in mezzo a noi ora la tenda che il signore stabilisce in mezzo al suo popolo è la stessa carne della umanità che gli vuole a redimere e salvare il figlio di dio si fa carne il figlio unigenito colui che è unico e speciale colui che è dentro la vita trinitaria colui che pur essendo però unigenito decide e sceglie con il padre e lo spirito santo di diventare primo genito perché in lui tutti noi diventiamo figli il mistero del natale in fondo ci regala questa verità la casa promessa a davide la tenda stabilita in mezzo al popolo è la famiglia stessa di dio che si allarga che amplia i propri spazi perché tutti noi uomini e donne di tutte le generazioni possiamo entrare a far parte della stessa famiglia di dio dunque non una casa di mattoni non un tempio ma piuttosto la nostra stessa umanità che si trasforma nel luogo in cui ci scopriamo amati gratuitamente dal padre il figlio unigenico ci contagia della sua divinità e ci introduce nella relazione di amore nella quale sappiamo di non avere meriti ma soltanto una gratitudine da restituire alla gratuità del dono siamo amati da sempre e per sempre siamo amati gratuitamente e in questo amore scopriamo di poter essere figli non più orfani non più soli non più abbandonati ecco perché la vera casa la vera dimora la vera tenda di dio nella terra è l'esercizio della fraternità è una dinamica di relazioni è uno stringere le mani l'uno all'altro perché tutte le persone possano trovare la dignità di quella che è la propria appartenenza a colui che così ci ha creati e voluti oggi in questa domenica in questa prima domenica dell'anno cantiamo un inno alla figliolanza e alla fraternità siamo figli adottivi nel figlio unigenito siamo figli di dio e dunque fratelli e sorelle fra noi per costruire un mondo di pace radicato nella comune dignità di creature amate buon impegno a ciascuno nella gioia di sapersi parte di questa meravigliosa famiglia divina